Un concorso artistico per celebrare l'imminente beatificazione di padre Minozzi e quanto ha pensato l'Associazione Nuove Idei di Padula che da tempo ormai ama esaltare il sacerdote che nel periodo della guerra mondiale riuscì a creare in tutta Italia una serie di orfanotrofi per i figli delle vittime della guerra. Uno di questi fu istituito presso la certosa di San Lorenzo a Padula, di cui la voglia della locale associazione di ricordare l'opera sociale che in quel difficile periodo della nostra storia riuscì a diffondere padre Minozzi. Per mantenere vivo il suo ricordo è stata indetta la prima edizione del concorso Poesia e Arte. Per quanto riguarda la poesia potranno essere composte opere che non devono superare i 40 versi e potranno essere edite o inedite. Le poesie in vernacolo o lingua straniera dovranno essere accompagnate da traduzione in italiano. Per la sezione destinata alla pittura, scultura e grafica i temi da rappresentare sono due, la certosa di San Lorenzo e padre Minozzi e gli orfani. Il 2 ottobre scade il termine per la presentazione delle opere ed il 26 ottobre nella splendida certosa di Padula avrà luogo la cerimonia di premiazione. Già pienamente soddisfatta la presidentessa dell'associazione Giuseppina Sorrentino, stanno aderendo al concorso, afferma, artisti di tutta Italia. Il 3 ottobre aggiunge inizierà il difficile lavoro della commissione. Per chiarimenti sulle modalità di partecipazione telefonare al 340 68 96 849 oppure contattare l'associazione attraverso l'e-mail Pina Sorrentino Pinto Chiocciola Libero.it